Papa Francesco, in latino franciscus pagine, in spagnolo francisco, nato Orge Mario Bergoglio. Dal 13 marzo 2013, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, ottavo sovrano dello Stato, della città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Durante la messa in Vaticano per il giorno di Pasqua una folata di vento ha fatto cadere l'antica icona del Cristo Redento. Due inservienti si sono poi prontamente mossi per rimetterla in piedi. Il tutto è avvenuto a pochissimi metri da Papa Francesco. Il gazzettino.it ha raccolto alcuni dei presaggi sui cui gli utenti hanno fantasticato in passato dopo simili eventi anomali. Non è la prima volta che alcuni vedono segni nascosti in ciò che avviene in Vaticano. È il caso del fulmine che nel 2013 colpì la croce di ferro posta alla sommità della cupola di San Pietro. Proprio nel giorno, in cui Benedetto XVI rinunciava al papato per ritirarsi a vita privata, durante il conclave. Poi, nella piazza Vaticana fu visto un uomo, con un saio francescano molto logoro, e a piedi scaldi che restò immobile a pregare sotto la pioggia. Poco tempo dopo la colombra della pace liberata durante un Angelus fu subito uccisa da un corvo e un gabbiano mentre era in volo.